Un saluto a tutti da Stefano Adami, quest'oggi stiamo facendo una piccola prova in mare di un mezzuccio che farà parlare un pochino gli amanti del mare. Io sono qui e faccio un questo piccolo breve video per invitarvi e per dirvi di non prendere appuntamenti per il 21 di luglio, perché il 21 di luglio con questo gioiellino di alluminio e con tutta Navico Italia, quindi Lorenz e Simrad in questo caso, saremo a Varazze e vi faremo provare sia la barca che gli strumenti. Quindi avremo montato su questo splendido mezzo l'S2009, avremo un 12 pollici con il TM150 e avremo anche e soprattutto finalmente il 3D, quindi tantissime novità, abbiamo scoperto delle cose su questa carena incredibili, riusciamo a leggere il fondo con uno schimmerino che stiamo usando per il test a 27 nodi, quindi ne vedrete veramente di cozze e di crude. Vi aspetto il 21 luglio, mi raccomando, 21 luglio, Marina di Varazze, vi porterò in barca, ci faremo un giro tutti insieme e magari parleremo anche un po' di pesca. Io intanto parto. Ciao!